Ma a voi certe volte le robe rimangono umide? Vabbè, questo proprio bagnate. Vabbè, comunque prima di vedere cosa dice la fisica vi devo dire una cosa. Molti di voi guardano i miei video, ma non tutti mi seguite, invece questo per me è molto importante. Allora, mi raccomando, seguite la pagina per nuove meravigliose lezioni. Quando un indumento è bagnato, per asciugarsi, assorbe energia termica per rompere i legami molecolari dell'acqua e trasformarla in vapore acqueo, energia fornita dall'aria calda circostante o dalla luce solare. Allora, anche in casa possiamo farle asciugare, purché la stanza sia calda ma non umida. Infatti, aria umida significa piena di goccioline d'acqua che rallentano l'evaporazione dell'acqua presente nel tessuto stesso. E se stendete all'aperto, occhio alla sera, quando l'umidità aumenta, allora, tramite uno stendino mobile, ritirate i panni all'interno per continuare l'asciugatura. Altro consiglio, se fuori è ventoso o se avete un punto della casa in cui c'è corrente d'aria, ancora meglio, perché grazie al vento le molecole d'acqua che evaporano dal tessuto vengono allontanate più rapidamente, accelerando l'asciugatura. Consiglio bonus, se lavate a mano, minore sarà la quantità di acqua presente nel tessuto, minore sarà il tempo necessario per l'asciugatura, per cui è utile per eliminare più acqua possibile, fare comunque una passata in lavatrice solo per una centrifuga veloce, prima di stendere.